Persi. La galleria correva sul fondo di una vasca grande quanto una palestra. Tranne per l'acqua e alcuni ornamenti dozzinali, sembrava maestosamente vuota. Persi intuì che c'erano quasi 200.000 litri di acqua sopra le loro teste. Se la galleria si fosse incrinata per qualche motivo... «Che problema c'è?» si disse il figlio di Poseidone. «Sono stato circondato dall'acqua migliaia di volte. Per me è come giocare in casa». Ma il cuore gli batteva forte. Ripensò a quando aveva rischiato di affogare nella fanghiglia gelida dell'Alaska, con il terriccio nero e bagnato sugli occhi, sulla bocca, sul naso. Porco si fermò in mezzo alla galleria e spalancò le braccia, orgoglioso. «Magnifico, vero?» Persi cercò di distrarsi concentrandosi sui particolari. In un angolo della vasca, annidata in una foresta di alghe finte, c'era una casetta di plastica a grandezza naturale, con le bolle che uscivano dal camino. Nell'angolo opposto, la statua di un tizio vestito da palombaro si inginocchiava accanto a una cassa del tesoro, che a intervalli di pochi secondi si spalancava, sputava un po' di bolle e si richiudeva. Sparse sulla sabbia bianca del fondale, c'erano biglie di vetro grandi quanto palle da bowling, insieme a uno strano assortimento di armi, simili a tridenti e arpioni. Fuori dalla vasca c'era un'ampia parete strutturata ad anfiteatro, con diverse centinaia di posti a sedere. «Che cosa ci tenete qui?» chiese Frank. «Pesci rossi killer giganti?» «Porco al sole sopracciglia». «Buona idea!» «Ma no, Frank Zhang, discendente di Poseidone!» «Questa vasca non è per i pesci rossi!» Alle parole «discendente di Poseidone», Frank trasalì, fece un passo indietro e afferrò lo zaino come per prepararsi a lanciarlo a mo' di mazza. Una sensazione di terrore calò come uno sciroppo lungo la gola di Percy. Purtroppo era una sensazione che conosceva bene. «Come fa a sapere il cognome di Frank?» domandò. «E come fa a sapere che discende da Poseidone?» «Beh!» Forco si strinse nelle spalle, simulando modestia. «Probabilmente era scritto negli identikit forniti da Gea. Quelli per la taglia, Percy Jackson.» Percy tolse il tappo alla penna e Vortice li comparve subito in mano. «Non fare il doppio gioco con me, Forco! Ci hai promesso delle risposte!» «Dopo il trattamento VIP, certo!» confermò il Dio. «Ho promesso di dirvi tutto ciò che vi serve sapere. Ma il fatto è, miei cari, che non vi serve sapere un bel niente!» Il sorriso grottesco si allargò. «Vedi, ammesso che riusciate ad arrivare a Roma, cosa alquanto improbabile, non sconfiggerete mai i miei fratelli giganti senza un Dio che combatta al vostro fianco. E quale Dio sarebbe disposto ad aiutarvi? Perciò ho un piano migliore. Voi non partirete affatto. Sarete i miei prigionieri VIP. Very important prisoners!» Percy attaccò. Frank scagliò lo zaino verso la testa del Dio. E Forco non fece altro che scomparire. La sua voce riecheggiò nell'impianto audio dell'acquario. «Sì, bravi! Combattere è quello che ci vuole! Nostra madre non mi ha mai affidato grandi compiti, però mi permette di tenere qualsiasi cosa io catturi. Voi due sarete un'ottima giunta alla mia collezione. Gli unici discendenti semidivini di Posidone in cattività!» «Errore semidivino!» «Sì, mi piace! Abbiamo già uno sponsor pronto! Potrete combattere in duello ogni giorno alle undici e all'una, più uno spettacolo serale alle sette!» «Tu sei matto!» urlò Frank. «Non sottovalutate la mia offerta!» replicò Forco. «Sarete la nostra più grande attrazione!» Frank corse verso l'uscita, solo per andare a sbattere contro la parete di vetro. Percy corse nella direzione opposta e si trovò ugualmente la strada bloccata. La galleria era diventata una bolla. Appoggiò le mani sul vetro e si rese conto che si stava facendo molle. Si scioglieva come ghiaccio. Presto l'acqua avrebbe invaso tutto con violenza. «Non contare sulla nostra collaborazione, Forco!» gridò. «Oh, sono un tipo ottimista!» tuonò la voce del Dio. «Se all'inizio non vorrete combattere tra voi, non c'è problema! Posso mandarvi dei nuovi mostri ogni giorno! E dopo che vi sarete abituati al cibo, verrete adeguatamente sedati ed eseguirete gli ordini!» «Predetemi! Finirete con la mare, la vostra nuova casa!» La cupola di vetro si incrinò e cominciò a far filtrare acqua. «Io sono il figlio di Poseidone!» Percy cercò di scacciare la paura dalla voce. «Non puoi imprigionarmi nell'acqua! L'acqua mi rende più forte!» La risata di Forco sembrò provenire da ogni direzione, circondandoli. «Che coincidenza! Anch'io sono più forte in acqua! Questa vasca è appositamente progettata per contenere semi dèi!» «Divertitevi! Ci vediamo all'ora di pranzo!» La cupola di vetro si infranse e l'acqua invase ogni cosa. Percy trattenne il fiato più che potè, quando alla fine i polmoni gli si riempirono d'acqua. Fu come respirare normalmente. La pressione non lo disturbava, i vestiti non si bagnarono nemmeno, le sue capacità subacquei erano buone come sempre. «È solo una stupida fobia!» si rassicurò. «Non morirò, ha negato!» Poi si ricordò di Frank e fu subito assalito dal panico e dal senso di colpa. aveva temuto così tanto per sé da dimenticare che il suo amico era solo un lontano discendente di Poseidone. Frank non poteva respirare sott'acqua. Ma dov'era? Percy ruotò su se stesso. Niente. Poi guardò su. Un gigante pesce rosso fluttuava sopra la sua testa. Frank si era trasformato, vestiti, zaino e tutto. In una carpacoi, delle dimensioni di un adolescente. «Ehi, bello!» Percy trasmise i suoi pensieri attraverso l'acqua, come faceva con le altre creature marine. «Un pesce rosso?» «Ho dato di matto», rispose Frank. «Avevamo parlato di pesci rossi e ce li avevo ancora in testa». «Sto avendo una conversazione telepatica con una carpa gigante», disse Percy. «Fantastico! Non puoi trasformarti in qualcosa di più... utile?» Silenzio. Forse Frank si stava concentrando, anche se non si capiva. Le carpe non hanno molta mimica facciale. «Scusa, Frank sembrava imbarazzato. Sono bloccato. A volte mi succede quando vado nel panico. E va bene. Percy strinse i venti. Cerchiamo di capire come scappare di qui». Frank fece il giro della vasca e riferì che non c'erano uscite. La superficie era protetta da una rete di bronzo celeste, robusta come le serrande dei negozi nei centri commerciali. Percy cercò di spezzarla con vortice, ma non riuscì neppure a intaccarla. Tentò di infrangere il vetro con l'elsa della spada, inutilmente. Poi ripete i suoi sforzi con le varie armi disseminate sul fondo della vasca, ma riuscì solo a spezzare tre tridenti, una spada e un arpione. Alla fine cercò di controllare l'acqua. Voleva che si espandesse e che rompesse le pareti oppure che esplodesse verso l'alto. Si concentrò fino a che le orecchie non gli fecero male, ma il massimo che riuscì a ottenere fu di far volare via il coperchio della cassa del tesoro di plastica. Forse l'acqua era incantata, o sotto il potere di Forco. Beh, è fatta, pensò scoraggiato. Mi toccherà vivere in una casetta di plastica per il resto della vita, duellando contro il mio amico pesce rosso gigante, aspettando l'ora della papa. Forco aveva promesso che avrebbero imparato ad amare la loro nuova casa. Percy ripensò ai telchini, alle nereidi e agli ipocampi imbambolati, che nuotavano in stupidi cerchi senza meta. Il pensiero di fare quella fine non contribuì ad abbassare il suo livello di ansia. Si chiese se Forco non avesse ragione, anche se fossero riusciti a scappare, come potevano sconfiggere i giganti se gli dèi erano tutti fuori uso. Forse Bacco era in grado di aiutarli. Aveva già ucciso i giganti gemelli una volta. Però era disposto a unirsi alla battaglia solo in cambio di un tributo impossibile, e all'idea di rendere a Bacco un qualsiasi tipo di tributo. Percy provava il desiderio di strozzarsi con una ciambella Monster Donut. «Guarda!» esclamò Frank. Fuori dal vetro, Seto stava conducendo Edge attraverso l'anfiteatro, parlando di continuo, mentre il satiro annuiva e ammirava le poltroncine da stadio. Frank picchiò la testa contro il vetro. Edge non sembrò notarlo. Seto continuò a guidarlo rapidamente per l'anfiteatro. Non degnò la vasca nemmeno di uno sguardo, forse perché supponeva che fosse ancora vuota. Indicò un punto in fondo alla sala, come a dire «Andiamo, da questa parte ci sono altri orribili mostri da vedere». Percy capì che aveva solo una manciata di secondi prima che il satiro sparisse. Nuotò verso di loro, ma l'acqua non lo aiutò a muoversi come faceva di solito. Anzi, sembrava respingerlo. Lasciò cadere vortice e usò entrambe le braccia. Edge e Seto erano a un metro e mezzo dall'uscita. Preso dalla disperazione, Percy raccolse una delle grandi biglie adagiate sul fondo e la lanciò come una palla da bowling. La biglia colpì il vetro con un lieve tank, neanche lontanamente sufficiente ad attirare l'attenzione. Percy ebbe un tuffo al cuore, ma Edge aveva le orecchie di un satiro e si lanciò un'occhiata alle spalle. Quando vide Percy, la sua espressione attraversò una sfilza di cambiamenti nel giro di pochissimi microsecondi, incomprensione, sorpresa, sdegno e infine una maschera di calma. Prima che Seto potesse farci caso, Edge indicò qualcosa in cima all'anfiteatro, forse gridando «Numi del cielo, quello cos'è?». Seto si voltò. Il satiro si sfilò prontamente i piedi finti e la colpì sulla nuca con uno degli zoccoli, con una perfetta mossa da ninja. Seto crollò a terra. Percy trassalì. Il bernoccolo che aveva ancora sulla testa pulsò per solidarietà, ma non era mai stato così felice di avere per accompagnatore un vecchio satiro appassionato di arti marziali. Edge corse al vetro, alzò le mani come a dire «Che diamine ci fai lì dentro, Jackson!». Percy picchiò il pugno sul vetro e si lavò con le labbra «Rompilo!». Edge strillò una domanda che probabilmente era «Dov'è Frank?». Percy indicò la carpa gigante. Frank agitò la pinna dorsale sinistra. «Come butta, coach?». Alle spalle di Edge, Seto cominciò a muoversi. Percy la indicò come un forsennato. Edge scrollò la zampa come per prepararsi a un altro calcio, ma Percy si sbracciò per fargli capire di non farlo. Non potevano continuare a darle botte in testa per sempre. Seto era immortale, non sarebbe mai rimasta a terra e la cosa non gli avrebbe di certo aiutati a uscire dalla vasca. Presto Forco sarebbe tornato a controllare. Era solo questione di tempo. «Al mio tre!» si lavò il figlio di Poseidone, sollevando tre dita e indicando il vetro. «Colpiamo il vetro tutti insieme!». Percy non era mai stato molto bravo al gioco dei mimi, ma è Giannui come se avesse capito. Colpire le cose era una lingua che conosceva bene. Percy sollevò un'altra biglia gigante. «Frank, avremo bisogno anche di te. Non puoi ancora cambiare forma? Forse riesco a tornare umano. Umano va benissimo, però trattieni il spiato. Se il piano funziona…» Ceto si alzò sulle ginocchia. Non c'era tempo da perdere. Percy contò con le dita. «Uno, due, tre!» Frank tornò umano e atterrò sul vetro con una spallata. Edge colpì la vasca con una spettacolare mossa alla Chuck Norris. Percy usò tutta la propria forza per sbattere la biglia sul vetro. Ma fece più di questo. Ordinò all'acqua di obbedire al comando e stavolta si rifiutò di avere un no come risposta. Avvertì tutta la pressione repressa della vasca e la mise a frutto. L'acqua amava essere libera. Con l'andare del tempo poteva vincere ogni barriera e detestava essere in trappola, proprio come lui. Percy si concentrò sul pensiero di tornare da Annabeth e sull'idea di distruggere quell'orrenda prigione per le creature del mare. Pensò a quanto sarebbe stato bello far inghiottire a forco il microfono. E duecentomila litri d'acqua risposero alla sua rabbia. Il muro di vetro si incrinò, le fratture si diffusero a zigzag dal punto d'impatto e all'improvviso la vasca esplose. Percy fu risucchiato dal torrente d'acqua che fuoriuscì nell'anfiteatro. Crollò sul pavimento, non lontano da Frank. Ceto era appena riuscita a rimettersi in piedi, quando la statua del palombaro le piombò addosso, come per abbracciarla. Edge sputò acqua salata. Per tutti i flauti di pan, Jackson! Che ci facevate lì dentro? Forco! Farfuglio Percy! È una trappola, scappiamo! Le sirene degli allarmi strillavano più non posso, mentre loro fuggivano per la strada da cui erano venuti. Superarono la vasca delle Nereidi, poi i telchini. Percy avrebbe voluto liberarli, ma come? Erano drogati estorditi ed erano creature del mare. Non sarebbero sopravvissuti se non avesse trovato il modo di trasportarli nell'oceano. E poi, se Forco li avesse raggiunti, il potere del Dio avrebbe surclassato il suo, Percy ne era sicuro. E anche Ceto era sulle loro tracce, pronta a dar l'impasto ai mostri marini. Tornerò, promise Percy. Ma le creature prigionieri non diedero segno di averlo sentito. Superando il fracasso del sistema d'allarme, la voce di Forco tuonò. Percy Jackson! Trucchi ed effetti pirotecnici esplosero un po' ovunque. Il fumo all'aroma di ciambelle riempì le sale. Una musica drammatica, cinque o sei brani in contemporanea, sfociò dagli amplificatori. Le luci saltarono e presero fuoco, come se tutti gli effetti speciali dell'edificio si fossero innescati nello stesso istante. Percy, Edge e Frank si precipitarono fuori dalla galleria di vetro e si ritrovarono nella sala dello scuolo balena. La sezione normale dell'acquario era piena di visitatori urlanti. Famiglie e gruppi di ragazzini in gita correvano in ogni direzione, mentre il personale si affannava, cercando di spiegare a tutti che si trattava solo di un guasto al sistema d'allarme. Percy, Edge e Frank si unirono ai mortali in fuga e corsero all'uscita.